ti vogliono far diventare un robottino vogliono che tu sia contento con un Inter che ha 13 punti dalla prima in una società che ha blasone in una squadra che è famosa in tutto il mondo dove sono stati fischiati i Vieri Ronaldo sono stati contestati i Moratti i Pellegrini lo stesso Tohir ma avercelo Tohir per certe cose al posto di Zhang e loro cosa vogliono? ti vogliono far diventare un robottino in maniera che tu diga sì signore ballo in generale a 360 gradi e questo che ad oggi c'è nell'Inter è quello che ruota intorno all'Inter e loro vorrebbero che tu fossi contento e che tu ti adeguassi ai meno 13 dal Napoli con tutto rispetto per il Napoli che comunque ha una bellissima squadra ma se cioè chi ti dice che l'Inter ha una rosa perfetta quello lì che è a pagamento che dice le cazzate a pagamento come fai a essere a meno 13 allora? se l'Inter ha una rosa buona bella lunga dei campioni perché sei a meno 13? di chi è la colpa? non te lo dicono quindi io sono un tifoso dell'Inter con tutto rispetto non sono un tifoso del Poggi Bonzi io l'Inter al secondo posto a meno 13 forse la vedevo con Mazzarri la vedevo con Toir capito? quindi però loro siccome hai vinto quella coppetta a Riyad loro vorrebbero e tu capito? festeggiassi che tu fossi contento no io no non sono contento non sono contento anche perché ti dirò di più caro tifoso dell'Inter vogliamo dire tifoso dell'Inter tifoso dell'Inter da poltrona come attualmente sono io perché vado meno allo stadio quindi io non vado più allo stadio sono un tifoso della poltrona ma per me non è un'offesa potrebbe ma no perché me l'ha detto qualcuno e mi autodefinisco io tifoso della poltrona va bene sono un tifoso della poltrona ma vogliamo ancora mettere il nome di Zhang accanto a quello dell'Inter? lascia perdere i cinesi se ne sta andando tutto veloce ma vogliamo ancora accostare il nome dell'Inter accanto a quello di Zhang ragazzi ma siamo pazzi siamo pazzi il nome dell'Inter non può più essere accostato a quello di Zhang perché è giusto che lui si prenda le sue beghe i suoi problemi e che si tolga dai coglioni perché lui non può sporcare l'Inter l'Inter non c'entra nulla con lui lui non è l'Inter l'Inter non è il suo giocattolino perché te lo ripeto per me con lui l'Inter può aver vinto anche uno scudetto e due coppe ma comunque ti lasciano un miliardo e due di debiti ti lasciano una situazione economica dove sei distrutto e a livello di immagine vogliamo parlare dell'immagine dell'Inter si è mai visto un presidente con tutti questi problemi all'Inter no e loro il sistema che si è creato intorno all'Inter loro vorrebbero che che si stappassero le bottiglie a meno tredici dalla prima io devo essere contento lo sai ti dico a meno tredici dalla prima io non sono contento a meno tredici dalla prima sono incazzato perché sono un tifoso dell'Inter te se vuoi essere contento a meno tredici dalla prima hai tutto il diritto di farlo ma io a meno tredici dalla prima non sono contento per nulla anche perché è una bella squadra ma non è il Real Madrid del Barcellona hai capito o no sei a meno tredici dalla prima perché hai fatto cacare perché hai perso sei partite e perché l'Inter te lo ripeto quando gioca una volta ogni tre giorni con questi over trenta perde sempre perché non ha la squadra per giocare ogni tre giorni non ha un allenatore che ha più di tante idee e questo è frutto del ridimensionamento è stato fatto dal dopo l'addio di parrucca di Antonio Conte e ti ha detto dammi sette milioni e vai a cacare questo è successo all'Inter bisogna dire la verità che cazzo me ne frega del derby a me ma devo diventare come i miei amici della Fiorentina che vinca la partita con la Juve e sono contenti tutto l'anno no cosa me ne frega di aver vinto i derby è normale sono contento sono a meno tredici dalla prima amico del sole ma di che cazzo vuoi ragionare ma di cosa volete ragionare bisogna essere contenti con un miliardo di debiti quello lì che ha problemi legali in tre paesi ma che cazzo state dicendo ai tifosi del Niter vergognatevi grazie a tutti